I Serni ha una città a due facce. C'è chi non vede l'ora che la raccolta differenziata porta a porta comincia a funzionare a pieno regime e c'è chi invece continua a ignorare questa svolta, continuando a calpestare le più elementari regole di civiltà e buonsenso. Alcune foto postate su Facebook rendono bene l'idea. Materassi, guanciali, mobili ed elettrodomestici continuano a essere abbandonati in pieno centro, accanto a quei cassonetti che tra qualche mese dovrebbero sparire per sempre, proprio grazie all'avvio della raccolta differenziata. Non è un bello spettacolo né si dà una bella immagine di Sernia. Certo è comodo abbandonare rifiuti ingombranti in mezzo alla strada, magari a pochi passi da casa, ma non si può fare né ieri né in futuro. Vanno infatti smaltiti nell'isola ecologica in località Le Piane, ricorda l'ufficio ambiente del comune di Sernia. È aperta dal lunedì al sabato. Tocca solo fare un po' di strada in più e forse il problema per i più pigri è proprio questo. Ma una cosa è certa, questi spettacoli il comune di Sernia non vuole vederli più. Da ora in poi, avvertono dall'ufficio ambiente, saranno intensificati i servizi di vigilanza. Chi sarà sorpreso ad abbandonare per strada i rifiuti destinati all'isola ecologica pagherà una multa salata. Il deterrente più efficace per spingere la gente al rispetto delle regole, forse.